da rieti piazza san rufo centro d'italia storie di piazza per raccontarvi storie d'attualità storie di piazza per coinvolgere i nostri concittadini su tutte le problematiche che assillano la città vertenze industriali sanità scuola e non solo storie di piazza storie di piazza per essere veramente protagonisti insieme a noi con questa televisione per reclamare quanto è giusto tutti i colori della cronaca ma anche soprattutto la politica dietro le quinte solo a storie di piazza storie di piazza soprattutto per i giovani per una speranza in questo periodo tanto difficile storie di piazza su sabinia silver tv prossimamente grazie a tutti grazie a tutti